ah ti sei spaventato? no stiamo ripassando le vocali A E I O U Y ma ti sei fatto la doccia? no sto andando a una festa a tema bello e qual è? la Cappatoio Party ci facciamo le tartine con le spugne l'aperitivo con lo shampoo e c'è pure la musica e chi suona? DJ Pantenne di sicuro andò tutto liscio bello questo film ma ne hanno fatti altri? fa parte di una trilogia allora ci sono anche il 2 e il 3? No, ci sono il quarto e il nono Me lo passi il caricabatterie Ma perché? Ti devi caricare il telefono No, mamma Devo mettere sotto carica mamma, non lo sai che è un Transformers? Mamma tronde Allora io che sono suo figlio sono pure io un Transformers Sì, tu sei Minchia Tom Prime Minchia Tom Prime Ma li mangi quelli? No Li stavo guardando Gli stavo chiedendo come stavano Ma come state? Tutti a posto? Ma certo che li mangio, è ovvio che li mangio Ce li ho da partire il piatto, tu hai finito il tuo È ovvio che li mangio Io con queste domande non ce la faccio più Federico Ma perché mi chiedi delle cose ovvie? È ovvio che le mangio Vabbè fammi dispiace, mi sembrava Che eri allergico Io sono allergico a te Minchia Tom Prime Ancora che ci pensi sei Ma poi i Transformers a noi ci fanno un baffo Perché noi siamo arrivati alle domande che mi danno fastidio 8 Invece i Transformers ne hanno fatti solo 5 E poi ci sono io Appunto io c'ho un minchiato a un Prime Loro non ce l'hanno Minchia Tom Prime Grazie a tutti Grazie a tutti.